Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie nella farm del dottore Oggi siamo nella seconda puntata, siamo ancora in compagnia del dottore Buonasera, buongiorno, buongun pomeriggio Mi associo, vado dietro a gusto Nella prossima puntata sarà un ciao, che almeno va bene per tutti gli orari Va bene, come al solito facciamo le nostre partenze bellissime Bellissime, è il nostro marco Che non è diretta, però vabbè Allora, cosa andremo a fare oggi? Allora, mi vedete che sono qua pronto con questo trattore Che insomma, un po' così così, non è un granchetto Va, funziona, lo usiamo Eh, eh, cosa c'è? Cosa c'è? Mi dica Mi era andato un rosco di traverso Un pochettino dello segheo Allora, andremo a trapiantare un po' di alberi Con Andrea Ok Va bene Vabbè Rigorosamente abeti Sì, esatto Che poi, una volta che saranno pronti, andremo a tagliarle A fare un po' di legna Magari facciamo anche un po' di asset Ci sarà cresciuta la barba lunga Perché, sapete, dobbiamo farci la casa nuova E ci facciamo noi stessi mobili Così non paghiamo, no? Giusto Esatto E mentre tu diverti con gli alberi Esatto Mentre io mi diverto tantissimo a piantare gli alberi Loro andranno Andranno a spendere i soldi Andranno a spendere i soldi perché abbiamo deciso di acquistare Il molino Il forno E il caseificio Perché così abbiamo queste produzioni Visto che abbiamo già le materie prime Per avviarle Andremo appunto ad avviarle così In modo da fare anche queste attività Che tra l'altro danno un buon guadagno E ripeto sempre siamo poveri Esatto Siamo poveri Quindi dobbiamo guadagnare Se no il dottore non si può permettere un altro di questi cosi verde sbiadito Ma il prossimo lo compro nero Ma ce l'hai già? Eh vabbè Il nero snellisce Va sempre bene Eh così sembra ancora più piccolo E tira ancora di meno Va bene dai ragazzi Ne abbiamo già sparate abbastanza per oggi E' il caso che cominciamo Allora Li piantiamo Usando la GPS ovviamente Per fare le file belle dritte E abbiamo deciso di piantarli Infilare A circa 6 metri e mezzo Uno dall'altro In modo che in mezzo poi ci seminiamo Anche l'erba Viene un lavoro un po' più bello Viene un lavoretto un po' più bello da vedere In mezzo c'è la fila d'erba E' più ordinato Così ha un aspetto migliore Ecco Eh dottore lei non corre Stesso problema mio Sì ma non ha velocità Non corre Non è che posso fare Allora vediamo gli alberelli Sono rimasti sempre uguali Gli alberelli I collicoli Ci metteranno Non so quanti milioni di anni A crescere Un paio d'anni Dovrebbe essere Mi pare Il tempo di crescita Lei dice? Boh Vedremo fra 24 puntate Benissimo Quindi ragazzi Sapete che intorno alla 25esima puntata Dovremo fare questo Allora Mettiamoci delitto di qua Siamo all'incirca Sui 6 metri e mezzo Più o meno Occhio e croce 6 metri 10 6 metri 50 Così così Non stiamo a guardare Proprio il centimetro 6 metri 40 Così Tanto non seminerò io l'erba Di sicuro Io ho già finito il pallet È già finito Non è già finito uno Porca bestia Ottimo Sì Anche perché il forno Ce l'avevo già Ah ce l'avevi già Sì Mi serviva un posto Dove vendere il latte Non so perché L'ho venduto il forno Però non tagli Ok Caricato Andiamo Vai Andiamo indietro Va quasi di più in retromarcia Che in avanti Sto trattore Agli Niente Parmerina Io e te Andremo a cominciare A consegnare un po' di prodotti Alle varie catene di produzione Per produrre Allora Intanto inizieranno Penso a portare I cereali Per la farina Non moltissimo Non ne abbiamo Un po' di tutto Quindi saranno a portare questi Poi c'è C'è il latte Giusto? Io faccio che Occuparmi del latte Direttamente Vado a recuperarmi Il man E la cisterna Guarda Dove c'è il silo Dove c'è il silo In farm Trovi Sicuramente Il Johnny Oppure C'è anche il class piccolino Ma di solito È dedicato Ai diservi E alle consumazioni Liquide Ok E il carro È Nel È di fronte Ok Sì No Mano a mano Con il man Chi Chi cosa Dove e come Quando e perché Eh ma Non posso Non c'è Non c'è Non c'è Eh Hai capito Non c'è Non c'è Pò Non c'è Pò Non c'è And Sì No Grazie a tutti. 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 Vi saluto io da parte di Farmer e del Dottore e ci vediamo a una prossima puntata. Ciao a tutti.